sempre meno e sempre più essenziale pregare non è facile pregare può diventare un'occasione di crederti a posto e sano succede quando si prega è come per dare al signore prova della nostra retitudine e succede spesso che dopo aver pregato ci sentiamo meno debitori di prima e più sani degli altri attenzione a considerarti sano egli non è venuto per coloro che si ritengono sani ma per i peccatori come farai a trattenere vivo e vero in te il sentimento profondo del tuo essere impeccato del tuo essere peccatore prega per noi peccatori se non ti senti peccatore la vergine non può pregare per te guardati dal sentirti incolpevole è grave è colpa grave